ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono megadome 911 e oggi avevo voglia di fare insieme a voi un bellissimo survival games team no solo scegliamo un bel server pieno come al solito e aspettiamo ecco io voglio a questo punto il kit brawler vediamo se lo trovo e dall'altro lato sì e che dire ragazzi è da un po da qualche giorno che comunque sto facendo meno video perché purtroppo all'università mi sono iniziate le lezioni e quindi che dire purtroppo si fa quel che si può aspetta mi prendo il knight ecco è a posto e quindi insomma divertiamoci facciamoci questa bella partita langer games sperando di non morire subito e di spaccare il culo a qualcuno avevo proprio voglia di giocarci quindi ho detto perché no dai così almeno se vinciamo guadagniamo belle gemmine e compriamo equip migliori magari allora il gioco inizia fra cinque secondi circa ecco bene 2 1 vai 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 con loot vai con loot cazzo 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 ho preso solo un pezzo di torta e neanche la mela porca troppo via via dal cazzo stiamo iniziando male ragazzi ve lo dico subito stiamo iniziando veramente di merda ora mi trovo senza un cazzo ho giusto un po di cibo giusto per vediamo vediamo minchia che volo che ho fatto porca di una troia qua sotto c'è bordello via 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 ma neanche morto neanche morto oh cazzo chi è che mi segue nessuno lì ci sono due che si ammazzano bene io direi di puntare qua su questa zona magari potremmo trovare delle chest vediamo se c'è qualche chest segreta eccola minchia lo sapevo che c'era uh robe fighe diciamo diciamo robe fighe indistruttibilità vabbè ce l'hanno tutti però allora questa non l'ho vista o si forse era quella di prima eh si sono scemo era sempre la stessa chest di prima però vabbè allora continuiamo a girare purtroppo ho trovato solo un paio di pantaloncini da sotto c'è tre tizi messi bene quello c'ha pure il cane madonna che scioppone va bene qua abbiamo già esplorato quindi direi di togliermi dalle palle anche se andare lì non mi ispira molta fiducia ecco quindi ora vediamo vediamo un po vediamo un po grano ovviamente non mi ah no lo posso raccogliere forse mmm si solo uno me l'ha preso vabbè forse c'è un drop rate casuale vabbè al massimo faccio un po' di palle qua è morto un tizio poi c'è l'anima tua anzi forse era una tizia vabbè saliamo cerchiamo altre chest non mi direi che sono ritornato al punto di partenza perché mi incazzo no qua c'è una chest nuova uh elmetto e palla di neve figo 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 vai 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 col cappellino vai 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 perfetto perfetto il cappellino è messo adesso vediamo un po' vediamo un po' vediamo uh chest 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 potessi raccogliere sto ferro cazzo minchia vuota lo sapevo questa sarà vuota sicuro infatti va bene le chest verranno riempite fra 5 minuti vabbè non mi interessa più che altro era così vada che figata questo posto si col cazzo che prendo quella minchia l'ho presa figa ok qua c'è un po' di lava c'è un po' di bordelli di storie io scusa se porlo piano un po' come dire di mal di gola cazzo sono tornato all'inizio no 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 assolutamente non voglio stare lì ma neanche per sogno proprio quindi beh andiamo vediamo un po' che cosa si può fare vediamo vediamo voglio andare in un posto che ancora non ho esplorato chiaramente perché in teoria non ho no in teoria cioè in pratica non ho un'arma quindi se per caso devo combattere con qualcuno sono cazzi miei adesso vediamo una crafting table un po' di cibo schifoso però per sempre cibo crafting table bene utile comunque però non ho nulla da craftare quindi me ne vado qua ovviamente l'hanno già lootata va bene scendiamo minchia pochissima vita ciò devo mangiare mangiamo bene ok e adesso ah no che credino potevo farmi il pane porca troia non ci ho pensato non si vede nessuno credo oh merda è brutto quando c'è è bello quando si resta vivo a lungo però è brutto quando non si trova niente perché poi con cazzo lo ammazzo quello lì queste le posso prendere ma che manco col cazzo drop incoming ovviamente non vado al drop non me ne frega un cazzo proprio ecco qua non c'è ah no c'è ok crafting table craftiamo un po' di pane so che magari può sembrare una sciocchezza però a me fa comodo quindi perfetto 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 qua dentro ci sono già stato purtroppo sì andiamo a cercare qualche altra chest da qualche altra parte vediamo 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 se ne trovo qualcun'altra vediamo 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 quindi 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 no 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 qua non c'è un cazzo saliamo su che cazzo è sta roba saliamo ancora su uè uè tnt figata figata non la so usare però non la so usare trovo wing tnt quindi tnt da lancio sarebbe va bene uè già fatta alba eh già siamo arrivati all'alba uh chest chest dammi un'arma o perché non si apre oh figa bene bene qualche arma ecco c'è di meglio effettivamente però ci accontentiamo che cazzo sto a fa oh sono scemo e ok quindi quattro spade in legno fa proprio schifo la spada in legno però pazienza meglio che niente mi pare di aver visto un tizio in lontananza io per ora voglio giocare diciamo abbastanza stealth in modo che se trovo qualcuno almeno il tempo di potenziarmi chiaramente perché se no sono cazzi miei qua già sono salito no neanche per il cazzo c'è una fornace una fornace con due sticks ottimo cazzo devo guardare non sapevo che ragazzi che dentro le fornaci si trovassero anche gli sticks di legno bene bene buono a sapersi altri pantaloni una fetta di carne e altre cazzate purtroppo la cosa impellente che proprio mi serve un'armatura più che altro perché se mi menano così anche con una spada in gomma mi fanno male so che non esiste in gomma però per modo di dire qualora esisterebbe scusate qualora esistesse perdonate i miei congiuntivi mancati allora in quel caso sarebbero cazzi miei poi c'è un'altra chest bene oh merda ma per che cazzo succede oh ma cazzo mi hanno tirato una dnt porca troia porca troia oddio oddio qua crolla tutto mo come cazzo scappo via via vai 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 spacca spacca tutto cazzo non ho spaccato un cazzo sono caduto oddio come cazzo devo fare ma perché perché cado così posso passare attraverso sta cosa ora muoio ecco minchia lo immaginavo che morivo porca troia come cazzo faccio a scappare adesso perché rimango sempre bloccato in questi posti di merda perché che ho fatto di male sono morto ma dai cazzo che palle sono stato chillato dalla vaporizzazione vabbè direi di non perdereci in chiacchiere e farne subito un altro e va bene vediamo se mi porta direttamente ok perfetto alle altre survival non perdiamo tempo iniziamone subito un altro sperando di trovare un altro server disponibile ecco qua survival games no cazzo ho fatto ecco perfetto un bel server pieno tre secondi rimanenti ottimo vai 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 ah no questi sono ecco perfetto bene o cazzo questo è vuoto no 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 usciamo subito cazzo cerchiamone un altro magari bello pieno stavolta questi non sono survival dio perché mi confondo sempre cazzo da cazzo sei da cazzo sei scheletro di merda oh mai forza oh minchia 16 su 24 sti cazzi vengo subito ok perfetto beh ragazzi questa volta vorrei provare il kit axman non so praticamente non ho usato la skill ma non mi hanno dato manco il tempo di combatterci e spiegatemi nei commenti che cazzo è quel vaporize perché effettivamente io non ne ho idea ogni volta finisco cado in un buco poi ci sono quelle cose che stringono e mi danno fastidio mi danno molto fastidio cazzo c'è morissi perché mi killa qualcuno allora ok ma non morire in quel modo da coglione porca troia non è la prima volta che mi succede scrivetemi anche nei commenti per favore se si può schivare il vaporize cioè se si può uscire dal vaporize la mappa è sempre quella bene perciò riproviamo e vediamo un po dai dai che sono impaziente dai 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 che voglio sfondare queste chest proprio voglio prendere tutto il contenuto o quanta roba minchia mi hanno fottuto tutto dio non ci credo niente non ho niente niente ho anche cliccato ho anche cliccato cazzo che dovevo fare più di quello ho anche cliccato porca troia minchia che cazzo manca il tempo mi ha dato porca di una puttana eva laida scusate ragazzi ma mi danno fastidio queste cose cioè porca troia nemmeno il tempo di guardarmi intorno che cazzo e che cazzo che poi ho cliccato sugli item guardate il video riportatelo indietro e vedrete che ho cliccato cazzo perché non cioè non lo so non me li dava ok vediamo un po quattro quindici su ventiquattro perfetto ok speriamo inizi subito riprendiamoci kit night che a quanto pare mi porta un po più di fortuna cazzate che tanto perdo lo stesso che sti angry games li hanno fatti un po a cazzo di cane che cazzo è quel coso che tira cose nere esplosive madonna c'è gente che ha i draghi ma scioppano come i porci io non ho parole veramente non ho parole scioppano come i cani proprio fidatevi i cani sciopperebbero se avessero soldi quindi vediamo un po la mappa sembra cambiata ma io c'ho qualcuno davanti che non mi fa vedere un cazzo dai 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 minchia che va mi sono bloccato mi sono bloccato dio cristo qualcosina l'ho preso stavolta vai vai via del cazzo via del cazzo via del cazzo 8 indossiamo perfetto canna da pesca in mano sanno che amo pescare quindi mi hanno dato una canna da pesca beh certo ovvio bene allora sparpagliamoci un po spero che nessuno mi stia seguendo no sembra di no comunque me ne vado ora affanculo per i cazzi miei merda merda qualcuno mi ha colpito non andiamo bene e direi di togliermi da co togliamoci dalle palle il telefono ovviamente non manca mai di squillare allora vediamo un po qui dentro che cazzo è un pistone cazzo è sta roba non si può prendere un cazzo oh c'è una chest minchia devo entrare all'altro lato dai 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 entriamo da qua entriamo da qua ci deve essere un'entrata sì bene dove cazzo l'avevo vista la chest eccola oddio bene spada in legno uh perfetto minchia perfetto perfetto non è proprio il massimo minchia ora cose decenti cose decenti 4 metto la vorazza 3 lascia minchia si arriva quello lo sdrum ora minchia è morto porca troia cazzo c'è la skin come la mia un copione di merda goal mi ha copiato la skin pezzo di merda pezzo di merda ma pure ucciso figlio di puttana figlio di puttana figlio di puttana figlio di puttana cioè ragazzi mi ha copiato la skin aveva l'occhio rosso come me perché fa il goal pure lui è anche un goal e mi ha stroncato bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto pur essendo breve diciamo non molto ricco di vittoria perché vabbè magari il primo hunger games l'avrei anche vinto però purtroppo mi hanno rotti coglioni con quel cazzo di vaporization o che cazzo è comunque vi invito a lasciare un bel mi piace iscrivermi al mio canale ci vediamo nei prossimi video ciao ciao ragazzi